Cosa è successo nel Comune di Milano? Sostanzialmente che nella scorsa consigliatura abbiamo, come dire, creato degli strumenti nuovi per estendere i detti di partecipazione che sono stati assistiti da una piattaforma che è appunto chiamata Milano Parchet, per costruire sullessibili. In parallelo abbiamo anche introdotto l'amministrazione condivisa dei beni comuni, che si avviene dei fatti di collaborazione e qui nasce subito già una prima esigenza che non siamo venuti ancora a risolvere, e cioè raccogliere sulla medesima certa forma, come esempio, di stanza informatica, la possibilità di attivare tutti questi processi. Ora, in realtà hanno nature molto diverse, processi di carattere, diciamo così, partecipativo politico con i processi lato beni comuni, ma hanno anche alcune affinità. La piattaforma non aveva l'origine di strumenti, le funzioni, le features, diciamo, che sarebbero corsi. Ovviamente è solo un tema di sviluppo software, fatto in modo intelligente. Il problema è che il Comune Milano ha scelto di non potenziare questo strumento adesso, perché è dell'arte priorità, anche a fronte del fatto che le risorse sono drasticamente diminuite. Ahimè. Cosa abbiamo fatto con questa piattaforma? Questa piattaforma consente di impostarvi sopra gli strumenti, gli strumenti, gli strumenti addizionali di carattere relativi alla democrazia diretta, quindi petizioni, stanze e referendum, anche quelli propositivi, ma per esempio non consente di presentare al correo del referendum un ambiente di advocacy e di discussione della tematica referendaria che gestisce il referendum nel secondo etrisce tradizionale. Questo secondo me è assolutamente un limite. È un limite che per esempio si è manifestato anche nel caso recente dello Stato di San Siro. Occorre interpretare il referendum in modo diverso. Il referendum può essere l'apice di un processo partecipativo di discussione collettiva, evidentemente. Ma la piattaforma, ora, questo disegno, questo percorso non c'è a livello di regolamento, cioè nella mappatura dei processi giuridicamente ammessi, però non c'è neanche sulla piattaforma. La stessa cosa si potrebbe dire anche delle petizioni. La nostra esperienza è che con le petizioni i cittadini suggeriscono una lettura molto attenta, molecolare, del territorio, segnalando quelle che sembrano delle criticità tutto semato banali. Invece, assolutamente no, anche quando la petizione, che so, sul signor hospital del territorio non raccoglie le fine necessarie per passare al livello di attenzione e di esame, tuttavia nella massa ci fanno capire che c'è un'opinione pubblica, c'è un'opinione civica che vede il territorio, lo conosce nel dettaglio molto meno del comune, e quindi ci suggerisce una polisi, una polisi che non emerge come tale della petizione stessa, né soltanto dalla sommatoria sempre delle petizioni, perché c'è una petizione vale zero se non raccoglie le fine necessarie. Viceversa, un ambiente in cui la petizione si trova risonanza, discussione, estensione della propria cometa, diciamo così, di consenso, potrebbe essere molto utile. Questo lavoro in realtà lo fa Oliverio con la sua piattaforma, ma la sua piattaforma in me non è nessuna comunicazione con quella del comune di Milano, né tantomeno Asia, e quindi non è integrata in questo gioco possibile. Questo era uno scenario invece di collaborazione che io mi l'ho permesso di suggerire all'interno del comune, ma non ha avuto seguito per ragioni che non è il caso di commentare adesso. Poi abbiamo utilizzato la piattaforma per invece effettuarvi una lettura interna di regolamenti, per esempio, il regolamento sul codice di comportamento degli impianti pubblici del comune di Milano è stato sottoposto a pubblica lettura all'interno per raccogliere suggerimenti e istanze di cambiamento da parte dei nostri colleghi stessi. Abbiamo già sviluppato quello che è un piccolo, diciamo così, prototipo di dibattito pubblico su questo strumento operativo che aveva un ribalbero immediato sulla nostra abitazione lavorativa. Poi l'abbiamo utilizzato anche per, invece, un'operazione molto più importante e strategica. Voi sapete che il comune di Milano si è dato questo piano iniziosissimo denominato Agna Clima, che vuole portare alla neutralità carbonica per la città entro il 2030. Questo piano, e qui abbiamo cognato un percorso giuridico nuovo e poi l'abbiamo messo in regolamento, questo piano è stato adottato dal comune nella sua prima versione, sottoposto ad una lettura pubblica sulla piattaforma stessa. E poi, una volta che le osservazioni dai cittadini, che potremmo dialogare tra loro, come diceva, un ambiente di condivisione reale delle posizioni, delle conoscenze reciproche, ha avuto le sue contro-denunzioni, insieme alle contro-denunzioni è andato in questo studio comunale, che loro ha titolato per legge alla decisione finale, la quale ha deciso cosa accogliere e cosa non accogliere di quelle attività. Ti ricordo lei, Michele, tu sei stato uno degli artefici di questa operazione, la seguita, così, da titolo e quindi per passo passo. La piattaforma si è comunicata in modo molto egregio, appunto qua che fa la geniosità. Secondo me, dal punto di vista del software, ci saranno cose forse da snellire e modificare. Le due cose che invece sono fuori piattaforma e lo studio web lo saranno, sono ancora una volta delle operazioni che in fondo si configurano come lettura pubblica di testi strutturati per la loro evoluzione, argomentativa e per la loro correzione anche, che sono il, il, sull'ambiente di coprogettazione sostanzialmente di testi, che sono, fatti di collaborazione, che non trovano alloggio di piattaforma e il bilancio partecipativo. Sono due strumenti, sono due istituti che possiamo avvalutare diversamente, il bilancio partecipativo. Stottone lo conosce, Stefano lo conosce benissimo perché è stato nell'equipo che ha gestito il bilancio 2017. È uno strumento complicato e complesso, ma beneficerebbe sensato moltissimo dall'avere un momento di, come dire, condivisione pubblica attraverso una piattaforma. Ovviamente occorrevo dei strumenti tecnologici più sofisticati perché lei si tratta di intervenire su panometrie e su documenti che non sono semplici Word o comunque file di test. Che prospettive vedo? Che cosa abbiamo avuto come difficoltà operativa interna? La maggiore è una certa difficoltà di connessione e di colloquio con una comunità di decidimi che dal punto di vista non tanto mio ma dell'assessore del tempo, Iparini, esibiva come dire, posso dire una parola in appropiata forse, me ne scuso, una certa gelosia diciamo così sulla piattaforma tant'è che le modifiche che noi abbiamo apportato semplicemente per l'esigenza di customizzare la sua esigenza su, diciamo, fare un vestito ritratto su misura sul nostro corpo è stata vista come un'operazione non ammissibile quindi non siamo entrati nel pannello dei, non mi ricordo come si chiamano diciamo dei cavallieri della tavola rotta con da dentro il vestito in realtà penso che questa deriva verso linguaggi o impostazioni diverse sia un fatto necessaria perché se bisogna adattare un strumento unico a una pletola di enti diversificati per funzioni e per natura insomma per comunità che amministrano forse la deriva sarà necessaria la seconda cosa invece ha frenato per quanto riguarda l'aspetto tecnico lo sviluppo della piattaforma è che la comunità di sviluppatori che conosce il linguaggio originale cioè Ruby è estremamente ridotta e quindi abbiamo avuto difficoltà a trovare proprio le maestranze di software di scrittura del software che forse in grado di seguire questa operazione di scrittura